Buon pomeriggio, io vi parlerò in italiano perché il mio inglese rischia di farvi addormentare a tutti quanti. Vi parlo del caso della nostra società che qualche anno fa ha dovuto porsi il problema di riscrivere e re-ingegnerizzare il suo prodotto gestionale, l'IRP, che vende ormai da 20 anni. La decisione è caduta come tool di sviluppo, come framework di sviluppo su Eclipse RCPU. Faccio un attimo un passo indietro per raccontarvi cose che sapete benissimo ma che mi servono per poi farvi vedere dove si colloca la nostra soluzione. Questa è l'architettura Eclipse, come ben sapete la parte più alta è l'IDE, l'ambiente di sviluppo vero e proprio, la parte più bassa è il framework ovvero è proprio il rich client platform che mi fornisce tutta una serie di servizi che sono sostanzialmente classi grafiche, un framework per modularizzare la mia applicazione e rendere la possibilità di calcolare a caldo questi moduli e poi la costruzione di un workbench o meglio di tutti i servizi per costruire una finestra e far colloquiare tra loro le varie parti di questa finestra, nel caso di Eclipse, prospettive e viste. Noi possiamo costruire degli ulteriori moduli, degli ulteriori plugin sopra l'IDE e estendere l'IDE per semplificare o per facilitare lo sviluppo di altre applicazioni, oppure possiamo appoggiarci direttamente sullo strato più basso e creare applicazioni RCP che utilizzano la parte più bassa. È quello che abbiamo fatto noi. Come vi dicevo, la parte più bassa mi consente di avere già a disposizione tutta questa struttura, tutti questi elementi grafici che sono la finestra, la toolbar, la status bar, le viste, le prospettive e la gestione di tutta la grafica che è Eclipse e Eclipse l'IDE è la prima implementazione, l'esempio pratico di quello che posso fornire questi servizi. Bene, quando noi abbiamo deciso di riscrivere la nostra applicazione, una volta deciso il tool ci siamo posti delle domande. Le domande quali sono? Un po' quelle che si sono poste anche gli speaker prima di me, a quello che ho visto. Cioè, dobbiamo creare codice, dobbiamo creare del codice che deve essere venduto in tempi brevi, dobbiamo essere presenti sul mercato prima possibile e quindi abbiamo bisogno dei programmatori che siano in grado di scrivere codice in modo facile, veloce, fornire un'interfaccia ricca all'utente finale, perché il fatto di scrivere codice velocemente e produttivamente non deve comunque andare a scapito della qualità dell'interfaccia e soprattutto utilizzare degli standard. Standard significa non solo scrivere un documento dove dico la mia applicazione è fatta in un certo modo, il mio layout è fatto in un certo modo, perché sappiamo bene che i programmatori sono delle anime libere, hanno la tendenza a fare bene o male dove ognuno pensare a modo suo e cercare di produrre codice e anche produrre delle forme, dei layout, ognuno per conto suo e in modo abbastanza diversificato. Mentre un'applicazione commerciale di qualità dovrebbe avere quantomeno un aspetto omogeneo, ogni sua parte dovrebbe essere simile a tutte le altre e comportarsi in maniera analoga. La domanda che ci siamo posti è, ma è proprio necessario scrivere del codice? Il nostro target sono applicazioni gestionali, le applicazioni gestionali bene o male sono fatte tutte la stessa maniera, abbiamo delle tabelle, delle griglie, abbiamo del data entry, abbiamo delle interrogazioni, bene o male si rischia di andare a scrivere codice che è tutto simile. Quindi ogni componente grafico, ogni riempimento di questi componenti grafici differisce dall'altro sostanzialmente per il tipo di dati che andiamo a rappresentare e per il contenuto di questi dati. Quindi una volta che sono stati identificati dei template, si può decidere che il programmatore possa smettere di scrivere codice, ma semplicemente utilizzare questi template e fornirgli quello che gli serve, cioè cosa devo rappresentare e come è fatto quello che devo rappresentare. Dopodiché qualcun altro si occuperà di disporlo e di rappresentarlo graficamente nel modo migliore possibile. La nostra soluzione qual è stata creare degli oggetti più generici possibili, che siano in grado di animarsi semplicemente fornendogli le informazioni che hanno. Quindi tutta una serie di codice che però è scritto una volta sola e si anima nel momento in cui noi gli forniamo quello che gli serve. Questo cosa comporta? Comporta che non sono più necessari degli skill Java molto evoluti. Anzi addirittura si possono convertire la maggior parte dei programmatori in dei consulenti, in dei specialisti della business logic dell'applicazione, del core business dell'azienda e lasciar perdere i dettagli che sono la scrittura del codice. Come fare questo? Quindi come ottenere l'obiettivo di non scrivere codice e di rendere omogenea la mia applicazione? Utilizzando, come vi dicevo, dei template e delle configurazioni che sono memorizzate da qualche parte e che vengono reperite nel momento opportuno. Abbiamo ottenuto che i tempi di sviluppo si accorciano da un 20% a un 70% e abbiamo ottenuto che possiamo scrivere dal 50% addirittura al 100% di codice in meno. Nella fattispecie una semplice interrogazione che deve visualizzare dei dati e deve consentire all'utente di filtrarli per i vari campi che sono a disposizione, il codice scritto risulta zero. E adesso andiamo a vedere maggiormente nel dettaglio quello che è stato fatto. Tornando allo schemino di prima, le parti che sono state aggiunte sono il nostro framework, chiamiamolo così. Framework che si divide in due parti, una parte che monta sopra l'interfaccia, sopra l'IDE, che consente alla gente, ai programmatori e a questi consulenti di sviluppare quel poco di codice che serve e una parte che invece si appoggia come base della nostra applicazione RCP che fornisce appunto tutta una serie di elementi che sono, come li vedete là, sono dei template, la propagazione, la notifica degli eventi che notoriamente serve per poter far parlare delle strutture che devono essere assolutamente indipendenti tra di loro e poi abbiamo dei componenti grafici che sono l'evoluzione dei componenti grafici di base di Eclipse che forniscono già di suo delle funzionalità intrinseche tipo il filtro per colonna, l'ordinamento per colonna, il filtro per record semplicemente dicendogli questi sono i dati e questi sono i metadati cioè la struttura dei dati che devi rappresentare. Partendo dalla base abbiamo esteso la struttura di Eclipse e la generazione delle prospettive e abbiamo creato una factory di prospettive quindi il primo passo è quando io voglio visualizzare una prospettiva io non devo più andarla a scrivere nel mio XML oppure nel codice Java che estende l'interfaccia della prospettiva ma lo scrivo in un database quella prospettiva è composta da queste viste questa factory al momento in cui viene richiesta la visualizzazione la renderizzazione della prospettiva non fa altro che occuparsi di tutti i dettagli cioè chiamare a sua volta una view factory e chiamare, istanziare i controller di ogni plugin e a loro volta istanziare le viste vere e proprie ogni vista viene descritta il suo contenuto grafico viene descritto attraverso un XML e a sovraintendere a questi componenti grafici vengono delegati delle ulteriori classi che prendono il nome di The Mediator perché questa separazione tra le viste e i Mediator perché vogliamo fare in modo che questa cosa sia più astratta possibile se io devo aggiungere del campo in più alla mia vista non vado a toccare il codice già esistente ma semplicemente modifico l'XML, aggiungo il campo aggiungo un altro Mediator che si occuperà di gestire quella o quel gruppo di parti grafiche lasciando gli altri Mediator assolutamente indipendenti senza andare a introdurre del codice che potrebbe causare dei malfunzionamenti la nostra architettura MWC quindi risulta quella che vedete nello schema abbiamo la vista che ha in mano i Mediator e i Mediator hanno in mano i componenti grafici veri e propri quindi gestiscono gli eventi gestiscono gli attributi e quant'altro il controller che sovraintende a una serie di command che eseguono effettivamente la logica la logica e poi il model che ha in mano i data object Mediator colloquiano tra di loro e con il controller attraverso la notifica di eventi e poi il controller ha in mano l'istanza del modello per poter lanciare l'esecuzione e l'elaborazione del modello sto partendo dalla parte bassa dopo vedremo come tutta questa cosa qua diventa assolutamente trasparente per poi per il consulente finale come vado a descrivere la mia grafica un po' come si fa in giro da questo punto di vista non c'è niente di nuovo io descrivo attraverso un XML non vado altro che a dire quali sono i componenti grafici che voglio utilizzare la loro collocazione il loro layout e la loro struttura e i loro attributi associo all'interno del mio Mediator ogni componente grafico al suo gestore oggetto attraverso la notazione che mi dice dato l'ID che io ho specificato nell'XML associo questo componente dopodiché all'interno del Mediator ne associerò gli eventi e ne tratterò gli attributi in modo che in questo modo il codice diventa molto più leggibile abbiamo anche qui astratto la notifica degli eventi abbiamo gestito una serie una struttura ad eventi fatta in quel modo lì io posso definire un evento un tipo oggetto che sarà l'oggetto delegato che conterrà le informazioni sull'evento e posso anche andare ad annotare quell'evento con un tag che può essere o standard oppure addirittura creato opportunamente e vedremo fra un attimo cosa serve quel tag dall'altra parte la classe, il Mediator o il Controller che deve ascoltare questo evento dovrà semplicemente annotare un metodo particolare con l'annotazione Observe e avere come parametro come argomento di ingresso lo stesso tipo di quello delegato che si aspetta da chi gli notificherà questo evento quindi non ho più bisogno di definire delle interfacce comuni per dire attenzione quello che può ricevere quell'evento deve implementare una determinata interfaccia devo semplicemente prendere il metodo che sarà l'handler di questo evento e annotarlo con quel Observe poi posso fare in modo che l'evento che notifico possa essere filtrato e possa essere notificato solo ad alcuni Mediator o ad alcuni oggetti che sono in attesa attraverso quel famoso tag quell'annotazione tag che vi dicevo prima per cui nel caso del primo evento che farà un fire annotato con chioccio la command verrà notificato solo a coloro che avranno messo a fianco ad Observe chioccio la command quindi in questo modo posso addirittura restringere la notifica di questi eventi a un ben determinato gruppo di ascoltatori cosa sono i custom UI o i nostri componenti grafici beh sono come vi dicevo l'estensione dei componenti grafici SVT che fornisce Eclipse a cui abbiamo fornito delle caratteristiche in più come vi dicevo abbiamo cercato di capire quali potessero essere i componenti grafici maggiormente utilizzati in un applicativo di tipo gestionale e secondo quello nella stragrande maggioranza delle nostre osservazioni i componenti grafici più utilizzati sono la tabella la griglia dove vado a rappresentare il contenuto del mio database in forma orizzontale la form che non è altro che il contenuto di un record del mio database in forma verticale l'albero e il Gant o meglio la rappresentazione lungo un asse temporale di alcuni dati ce ne sono altri componenti grafici evoluti che possono essere utilizzati in ambito gestionale non lo so noi ne abbiamo identificati questi quattro siamo aperti ai suggerimenti che qualcuno può darci di qualche componente grafico che possa essere utile e utilizzato in quell'ambito lì esempi di questi componenti grafici beh qua abbiamo come vi dicevo la griglia quindi la famosa tabella che conoscete tutti la forma che è il record selezionato per esempio in forma verticale l'albero che non è altro che una griglia dove una colonna si è deciso abbia il link tra padre e figlio e questo famoso Gant fatemelo chiamare Gant anche se è una dicitura un po' impropria questa rappresentazione lungo un asse temporale delle mie informazioni qual è il gioco il gioco è rappresentato in questa chart abbiamo costruito i componenti grafici abbiamo fatto in modo di creare questi mediator che sono organizzati in quella maniera e fino adesso abbiamo lavorato a mano nel senso che uno può istanziarsi il mediator attraverso il new eccetera eccetera ma vi ho detto all'inizio lo scopo è di eliminare la scrittura del codice questi componenti grafici hanno bisogno di cosa? di sapere quali sono i dati e come sono fatti i dati il resto fanno tutto loro quindi l'idea è forniamoli queste informazioni come primo passo abbiamo bisogno di catalogare le nostre tabelle quindi io prendo le mie tabelle quelle del database e popolo una tabella o n tabelle dicendo il mio database è fatto così con questi campi che hanno questa struttura non solo ma a ogni campo associo delle informazioni in più oltre al tipo che sicuramente è l'informazione indispensabile ma posso fornirgli un'altra informazione che è per esempio qual è la sua rappresentazione grafica quella che io decido possa essere migliore qual è la sua descrizione nel momento in cui io questo campo lo metto su una forma la label che c'è a fianco al campo cosa deve contenere non ho bisogno di se quel campo contiene sempre la stessa informazione basta che lo dica una volta quindi associo questa informazione in questo catalogo la tabella master esempio se io ho dentro il mio ordine cliente il classico codice cliente avrò sicuramente una tabella che contiene l'anagrafico dei codici clienti nel momento in cui io dico questo codice cliente la sua tabella master è dentro quell'altra tabella ho automaticamente detto benissimo tutte le validazioni di quel campo e tutte le decodifiche del campo cioè la descrizione da mettere a fianco al codice sai già dove andarle a prendere nella tabella master non ho bisogno di andargli a dire io nel codice ogni volta perché glielo ho già detto sto facendo questa associazione e poi potrebbe avere anche una configurazione ricorsiva vediamo dopo fra un attimo quando saliamo il gradino cosa vuol dire questa cosa una volta che io ho catalogato tutte le mie tabelle devo cominciare a usarle cosa vuol dire cominciare a usarle significa che io bene dico quella tabella la voglio usare la voglio rappresentare la voglio manutenzionare attraverso una mia applicazione grafica quindi costruisco una configurazione comincio a dire bene io voglio questa tabella voglio visualizzarla su una griglia quindi vado a pescare da quei template che abbiamo visto prima tabella form gant e albero quali sono i campi di quella tabella che voglio rappresentare e ovviamente andrò a ereditare automaticamente tutte le informazioni del catalogo quindi il tipo la sua rappresentazione grafica eccetera eccetera e quindi ho già disegnato la mia interfaccia dicendo voglio questi campi e li voglio in una griglia in una forma in un albero dopodiché devo dirgli benissimo quando l'utente seleziona il record per esempio una riga cosa devo fare quando scrolla la barra di sconnimento della griglia cosa devo fare devo caricare un'altra pagina per esempio e quindi vado a inserire nella configurazione questi comportamenti ma come questi comportamenti sono cablati in questi componenti grafici che li notificano tramite degli eventi quando succede qualcosa si viene scatenato un evento io devo dichiarativamente dire cosa deve fare quando viene scatenato quell'evento per esempio chiamare un programma server per reperire gli ulteriori dati o qualcos'altro una volta che io ho tutte queste configurazioni inserite nel mio database a runtime cosa succede? quando viene chiesto di renderizzare questa particolare vista che ho configurato un motore non fa altro che andare a prendere queste configurazioni scritte su un database creare i metadati che servono ai componenti grafici creare il result set che si aspetta al componente grafico e fornire al componente grafico il quale sa già tutto quello che gli serve quindi se nel momento in cui l'utente dirà voglio filtrare i record per il campo tale non avrò bisogno di scrivere codice perché già il componente grafico sa il campo tale è numerico il suo contenuto è fatto di ciò posso crearmi io la query che devo sul database per filtrare i record quindi tutto si risolve a scrivere in modo dichiarativo delle configurazioni qual è secondo noi la cosa vincente che queste configurazioni vengono memorizzate su un database e vanno a far parte del patrimonio dell'azienda e possono essere riutilizzate in futuro se domani mattina fra un anno fra due anni decidiamo di renderizzare anziché utilizzare gli svt vogliamo utilizzare qualche altro componente grafico dobbiamo semplicemente riscrivere i componenti grafici di quei famosi custom UI che dovranno semplicemente essere alimentati da quella stessa engine fornendogli questi metadati e questi data source il risultato è quello che vi posso vedere far vedere qui ho una griglia nel momento in cui la griglia gli dico guarda che quel campo però me lo devi raggruppare perché è un'informazione che è presente in più record voglio vederla raggruppata semplicemente la griglia mi fa vedere già i record raggruppati non ho bisogno di scrivere codice per raggruppare i campi addirittura posso semplicemente trascinare un campo all'inizio un campo che io ho specificatamente detto che è raggruppabile e automaticamente la griglia si riorganizza per mostrarmi i record raggruppati posso la griglia in quanto contenendo la struttura dei campi di cui ho bisogno mi fornisce automaticamente la possibilità di filtrare quindi mi fornisce già i campetti sopra ogni colonna dove io posso andare a inserire il valore per filtrare i record anche qua senza scrivere codice perché gli ho detto come sono fatti i campi oppure posso addirittura andare a inserire una mia query attraverso un apposito wizard anche questo fornito direttamente dal componente grafico dove mi dice questi sono i campi bene seleziono il campo gli metto il valore o l'operatore maggiore minore uguale eccetera e gli metto il valore che voglio filtrare questa query posso anche addirittura memorizzarla per utilizzarla in un secondo tempo posso andare direttamente a editare in griglia i valori in questo caso quando salvo il dato dovrò scrivere un pezzo di codice che si occupa di fare la persistenza del dato però molte informazioni mi vengono già validate a livello di griglia soprattutto se io ho aggiunto la tabella master alla mia tabella al mio campo al mio catalogo addirittura la griglia può generare in automatico una forma perché non ha bisogno d'altro perché la griglia sa come sono fatti i campi quali sono i suoi metadati per cui io dico non riesco a editare in griglia perché è troppo complicato le barre di scorrimento eccetera genero la form e automaticamente mi viene creata la form per inserire il record nel modo usuale del data entry questo è un esempio di come vado a inserire i miei metadati nella mia configurazione vado a inserire i campi di cui è composta la mia configurazione e li vado a prendere dal catalogo quindi basta semplicemente gli dico qual è la tabella o quali sono le tabelle che voglio utilizzare nel caso di più di una gli dico anche in che relazione sono tra loro le tabelle e di quelle tabelle quali sono i campi che voglio utilizzare posso nasconderli renderli dei campi di lavoro per poter fare dei conti posso aggiungere dei campi di lavoro opportunamente per memorizzarmi delle informazioni e poi vado a inserire che cosa come vi dicevo cosa deve essere eseguito quando la griglia mi comunica che l'utente ha interagito in qualche maniera esempio lì trovate quattro eventi che sono l'inizializzazione cioè cosa devo fare quando la mia griglia viene inizializzata oppure quando vado scorro col mio con la barra di scorrimento in basso il page end per esempio oppure quando una volta che ho selezionato la riga col doppio clic nel nostro caso selezionando la prima riga che vedete là in alto cosa devo fare quando viene inizializzata la griglia chiamo un programma del mio server back end che mi deve restituire il result set che io devo rappresentare e come vedete lo vado a inserire attraverso un editor normale quindi come vi dicevo questa operazione la può fare non un programmatore ma può fare un consulente che conosce qual è il flusso dell'applicazione e non ha nessuna conoscenza del codice che deve essere creato non solo ma non ha neanche idea di come sarà il risultato finale o meglio provandolo lo vede ma lì non va a dire quell'icona la metto di là quell'altra icona la metto dall'altra parte ma l'icona è colorata in quel modo perché non gli interessa questo è fatto da qualcun altro e quindi in questo modo vengono rispettati anche gli standard relativi anche al layout della mia applicazione le mie applicazioni ovunque io metterò una griglia tutte le griglie saranno uguali avranno le stesse modalità di interazione con l'utente perché chi inserisce le regole non ha nessuna possibilità di influenzare questa cosa ma deve dirgli solo come deve reagire la mia applicazione mi siamo messi io avrei finito grazie a tutti